Questo è il cuore pulsante di fisico, quindi abbiamo la sala fitness dove i clienti vengono seguiti in totale riservatezza con il personal trainer, si passa da un percorso prima di pedana vibrante, la pedana che esegue un movimento sussultorio e questo è fondamentale, la vibrazione sussultoria è la vibrazione che mantiene e tutela in piena salute allo stato delle nostre ossa. L'ettino ortostatico dove all'interno viene mantenuta una temperatura fisiologica di 36,8 gradi centigradi, quindi i muscoli muovendosi bruciano calorie, l'enzima va a prendere l'energia per metterla a disposizione dei muscoli e quindi in soli 30 minuti di movimenti all'interno di questo lettino si bruciano molte più calorie rispetto a qualsiasi altra attività fisica. E infine la cabina di ossigeno ozono che è il nostro macchinario dove viene concluso il percorso fitness, all'interno della cabina viene emanata una miscela di ossigeno ozono che penetrando attraverso i pori della pelle vanno ad accelerare ciò che è stato messo in moto dai primi due macchinari.